Intanto ringrazio l'assessore per essere venuta a rispondere a questa interrogazione in cui mi sono fatta portavoce a nome del Movimento 5 Stelle Lombardia di una questione che affligge purtroppo da anni il territorio del Cremonese. Parliamo dal 2008 a oggi e dico a oggi perché a seguito della presentazione e dell'interrogazione io continuo e ne ho portato qui anche alcune coppie da consegnarle brevi mano a un assessore a ricevere preoccupanti segnalazioni da famiglie con bambini, anziani, cittadini di comuni di Cremona, Spinadesco, Cavatigozzi, Sesto e Casanova sul Morbasco che si trovano in una zona in cui insiste questa acciaieria, la acciaieria Arvedi, per la quale Regione Lombardia ai tempi della nascita di questa acciaieria sul territorio emise un decreto di esclusione della soggettabilità alla via. Si sono purtroppo verificati poi una serie di criticità di cui queste sono soltanto una parte però sono molto urgenti da risolvere e sono relative ai boati di intensissima forza che questi cittadini sentono durante le ore notturne. Fra l'altro ho avuto notizia di recenti rilevazioni dell'ARPA che dovrebbero essere state svolte a seguito dell'interrogazione nel periodo natalizio da cui emerge che nelle ultime 55 notti dell'anno in ben 17 la media notturna quindi media quindi costante dalle ore 22 alle 6 del mattino ha superato i 50 decibel quindi oltre il limite consentito dalla legge e fra l'altro ciò implica che i picchi se questa è la media sono notevolmente superiori. Quindi noi chiedevamo nell'interrogazione di avere una motivazione anche politica dell'esclusione dalla procedura di via per il fatto che questa acciaieria recentemente ha richiesto di passare da una capacità produttiva che inizialmente era di 500 mila tonnellate poi è passata a 2 milioni e di questi giorni la richiesta dell'azienda di arrivare a 3 milioni di euro cosa che naturalmente preoccupa molto questi cittadini per i quali i problemi non sono stati risolti. Fra l'altro le rilevazioni di ARPA sembrano non essere valide ai fini sanzionatori perché sono state fatte in assenza del tecnico fonico. Quindi anche qui vi faccio capire come su questa questione c'è un rimpallo anche locale perché questo piano di ristanamento acustico non viene effettuato vengono poi rilasciati dalla provincia a continue proroghe alla ciaieria Arvedi siamo in violazioni di legge quindi noi ci domandiamo anche se regione può intervenire anche perché il diritto alla salute è primario e noi pensiamo che le azioni di regione Lombardia debbano tenerne conto in assoluta priorità quindi se regione possa intervenire sia per sollecitare gli enti locali interessati a emettere i provvedimenti per concretizzare questo piano di ristanamento acustico e le necessarie compensazioni per i cittadini che ad oggi non sono state fatte sia se possa intenda intervenire direttamente presso l'acciaieria Arvedi e se può provvedere con ARPA tramite ARPA creare un piano di monitoraggio acustico costante per tutta la zona interessata in modo tale che si garantisca ai cittadini un controllo costante della situazione e si pongano in atto tutti quei provvedimenti che sono necessari per il superamento dei limiti di legge. Grazie. Grazie Presidente. Due piccole precisazioni. Primo ho per conoscenza diretta ben presente quali siano le questioni legate alla presenza di un'acciaieria in mezzo ad un paese per ovvi motivi abitando io a Dalmine e a tipo 300 metri da uno dei forni della Dalmine quindi ho ben presente quali siano i problemi e capisco quale sia la delicatezza e quale possono essere i... insomma quale sia il peso tra virgolette che arriva ai cittadini che ovviamente si trovano ad interagire volenti o dolenti con quella che è appunto un'attività che è particolarmente... che ha un impatto importante sul territorio. In questo caso parliamo di quelle che sono le emissioni rumorose che effettivamente soprattutto in alcune parti della giornata diventano insomma difficili. Sì sì infatti anche noi a Dalmine il problema maggiore ce l'abbiamo capirete bene ovviamente di notte poiché di notte si abbassano tutte le altre fonti rumorose e quindi ovviamente l'unica fonte che c'è o la principale fonte che c'è assume un rilievo ancora più importante. Ora la situazione poi dell'Arvedi è ancora più diciamo complessa più che complicata dal fatto di come si è sviluppata poi l'acciaieria sul territorio. Si trova, sto guardando la cartina tra quelli che sono i due centri dei principali insomma comuni ed è di fatto tagliata in due da quella che immagino che sia una provinciale vedendoci una rotonda do, deduco che sia una provinciale. La società si è sviluppata quindi la parte più vecchia nell'area sud che è forse quella che da cui proviene insomma i rumori più importanti e invece l'altra parte l'area nord è quella di recente sviluppo così mi hanno spiegato, vedo che mi fa sì quindi confermiamo questa cosa. Allora piccola introduzione a parte questa introduzione, altra precisazione, mi spiace consigliere doverle rispondere che l'esclusione via non può avere una spiegazione politica nel senso che può avere una spiegazione tecnica. Politica come lei ben sa e come ci siamo detti più e più volte quando parliamo in particolare di quelle che sono le mie competenze, l'intervento del politico in quelle che sono procedure assolutamente tecniche normate fin nel dettaglio è assolutamente vicino allo zero, anzi zero per tutta una serie di motivi che insomma possiamo meno condividere ma così è di fatto. In caso contrario probabilmente non ci saremmo trovati a parlare di tutta una serie di situazioni. Allora dicevo l'Arvedia S.p.a. detiene la principale attività produttiva della provincia di Cremona per estensione numero di addetti e impatti ambientali. A ragione delle sue dimensioni Arvedia è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale quindi ad AIA e soggetta a controlli periodici codificati da procedure ad hoc. Le attività di verifica delle emissioni rumorose svolte in questi ultimi anni per quanto numerose rappresentano quindi solo una piccola parte di quelli che sono ovviamente i controlli ordinari straordinari e promossi a seguito di denunce che il Dipartimento di Arpa Cremona ha svolto su tale insediamento produttivo. Quindi conferma anche di quanto detto relativamente all'interrogazione precedente controlli ordinari straordinari e in questo caso anche a seguito di segnalazioni leggevo anche dei comitati probabilmente dei cittadini del territorio. L'acciaieria Arvedia S.p.a. dispone nell'area oggetto appunto delle segnalazioni di due siti produttivi distintivi adiacenti. Dicevo l'area sud che è l'acciaieria vera e propria che è caratterizzata dalla presenza di laminatoia caldo per la produzione di rotoli di nastro di acciaio e nel secondo sito, quello a nord, invece è presente un impianto per la finitura e zincatura di coil cioè di quei appunto rotoli di nastro di acciaio sia di produzione propria che di provenienza esterna. Per consentire una collocazione, per farvi capire meglio, non so lei ce l'ha presente, poi magari ai commissari distribuiremo la cartina così capite. Comunque di fatto area sud è l'acciaieria vera e propria, la provinciale, i due centri come dicevo prima e area nord invece quella che è di sviluppo di lavorazione mi pare di capire più che di produzione vera e propria. L'acciaieria delle aree a sud a cavallo quindi tra i comuni di Spinadesco e Cremona è entrata in funzione nei primi anni 90 ed è stato oggetto nel 2008 e 2010 di un significativo ampliamento, qui mi indicano un raddoppio. L'ampiamento ha, direi più che raddoppiato, quasi triplicato la capacità produttiva dell'impianto introducendo un secondo forno fusorio e un secondo laminatoio e gli impianti presenti in effetti adesso di fatto con questo ampliamento si trovano in prossimità degli abitati di Cavatigozzi e di Spinadesco. Le aree a nord invece sono costruite di fatto, sono state costruite ex nove, sono entrate in funzione nel 2010. Allora, come ci dicevamo prima, di fatto i problemi maggiori sono legati all'area sud, quindi all'area dell'acciaieria vera e propria. Gli impianti di entrambi i siti sono soggetti a continue manutenzioni, modifiche e trasformazioni rese necessarie dall'evoluzione delle tecnologie produttive e dalle rinnovate necessità di mercato. Complessivamente le potenzialità produttive degli impianti sono tale da rendere i due siti soggetti ad AIA, quindi ad autorizzazione integrata ambientale. Dal punto di vista geografico i due comparti sorgono all'interno di un'area di limitate dimensioni, tra il centro abitato del comune di Spinadesco ad ovest e l'abitato di Cavatigozzi, frazione del comune di Cremona a nord-est. Lo spazio disponibile all'espansione dell'azienda è quindi relativamente limitato, di fatto quindi ogni espansione non può che avvicinare le attività alle residenze. La distanza tra le sorgenti di rumore e i centri abitati in particolare si misura da un minimo di 300 metri ma è generalmente superiore. È ovvio che su queste distante distanze la propagazione del rumore può essere particolarmente influenzata dalle condizioni meteorologiche presenti e, ancor più, dalla direzione del vento al suolo e nei primi strati dell'atmosfera. La prima AIA delle aree sud fu rilasciata da Regione Lombardia nel giugno 2006. In data 8 settembre 2006, Acciaieria Arvedia Seprea presentò una richiesta di modifica sostanziale che prevedeva, tra l'altro, l'installazione di un secondo forno fusorio e di una nuova linea di laminazione. Tale modifica comportava l'aumento della capacità produttiva di progetto dell'impianto da 900 mila a 2 milioni e 400 mila tonnellate anno. La modifica sostanziale è stata recepita ed inserita nella nuova AIA, rilasciata nel marzo 2010 dalla provincia di Cremona, in qualità di nuova autorità competente a seguito dell'intervenuto conferimento della funzione tecnico-amministrativa da parte della Regione e appunto alla provincia. A decorrere da tale data, l'autorizzazione è stata oggetto di diverse modifiche, sostanziali e non, necessarie proprio per adeguarne i contenuti all'evoluzione delle esigenze produttive del sito. Anche a seguito delle richieste dell'amministrazione del Comune di Spinadesco e di ARPA, l'autorizzazione AIA del marzo 2010 prescriveva che, a partire dall'entrata in servizio degli impianti autorizzati, la ditta dovesse installare e mantenere nell'abitato di Spinadesco, in punti concordati con ARPA, una centralina per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e una stazione fissa di misura in continuo del rumore ambientale. Le due postazioni sono state predisposte e la loro gestione è affidata ad ARPA con una convenzione onerosa di durata triennale. Anche sulla base degli elementi forniti da ARPA a Lombardia, in ordine agli aspetti afferenti all'inquinamento acustico, possiamo rilevare e quindi arrivare alle risposte che ci chiedevate. Relativamente al quesito 1, nell'ambito della verifica di assoggettabilità a via svolta dalla Regione con decreto numero 534 del 26.1.2009, ARVEDI SPA ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico del progetto di ampliamento per la produzione e lavorazione dell'acciaio in comune di Cremona ed in comune di Spinadesco, come previsto dalla normativa nazionale e regionale e ciò al fine di caratterizzare il clima acustico dell'area potenzialmente impattata dal funzionamento dell'ampliamento, anche attraverso misure fonometriche che tenessero conto del rumore di fondo e quindi dei contributi acustici provenienti da altre fonti esterne all'area oggetto di misura. Ai fini dell'inquinamento acustico l'area è caratterizzata da sorgenti fisse che sono quindi il forno fusorio, il cammino del forno, i filtri del forno fusorio, i condotti, i ventilatori, le torri di raffreddamento, il laminatorio nuovo, le siviere, il magazzino coil e mobili come il ragno, le pale meccaniche, i mezzi di trasporto, tutte ovviamente interne all'acciaieria. Sorgenti di traffico veicolare nelle vie Acquaviva, Spinadesco e vie delle industrie, nonché degli autotreni nel parcheggio dell'acciaieria. E infine dalle sorgenti costituite dagli impianti dell'oleificio Zucchi, quindi sorgente assolutamente esterna all'acciaieria. Con l'esclusione dell'assoggettamento a via, con il decreto del 26 gennaio 2009, sono stati prescritti interventi per limitare le pressioni sonore sui ricettori, quali ad esempio la realizzazione di terra piena o di barriere silenti, l'installazione di pannelli fonoassorbenti e l'inserimento degli impianti fissi all'interno dei fabbricati dell'insediamento al fine di garantire rispetto dei limiti normativi. Il contenzioso nei confronti del decreto regionale di esclusione via, avanti al TAR di Brescia, è terminato con una sentenza favorevole. Su tale legittimo decreto si è innestata poi l'autorizzazione AIA del marzo 2010, che prescriveva, come abbiamo detto, a partire dall'entrata in servizio degli impianti autorizzati, l'installazione da parte della ditta nell'abitato di Spinadesco, in punti concordati con ARPA, di una centralina per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e di una stazione fissa di misura in continuo del rumore ambientale. Le due posizioni, come vi ho detto poc'anzi, sono state predisposte alla gestione affidata ad ARPA, appunto con la convenzione triennale onerosa. Gli altri interventi relativi alla realizzazione delle barriere acustiche, terrapieni e piantumazioni finalizzate al contenimento dei rumori prescritti nella verifica di via e nei successivi atti autorizzativi rilasciati dalla provincia non risultano ad oggi completamente realizzati. La sentenza del 2011, che ha chiuso quindi il contenzioso relativo al decreto di esclusione dalla via, è stata poi impugnata avanti il Consiglio di Stato ed è tuttora pendente, ancora in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione. Arrivando al quesito 2, per gli effetti delle leggi regionali del 2006 e del 2010, sono state trasferite alle province le competenze rispettivamente in materia di aia e di via e di verifica di via. La Regione quindi non ha pertanto alcuna potestà tecnico-amministrativa sui procedimenti trasferiti, se non poteri di indirizzo e di coordinamento per assicurare ovviamente l'uniforme e corretta applicazione delle norme sul territorio regionale. Ovviamente potestà che esercita regolarmente, in particolare nei settori più rilevanti, quali quello delle acciaierie. Attualmente, come nota, come informazione, vi dico che è in corso il tavolo tecnico con le province ARPA e Federacciai per il recepimento delle BAT Conclusion del settore adottate con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della direttiva 2010-75 relativa alle emissioni industriali. Va dato atto che gli enti preposti al rilascio e all'aggiornamento dei provvedimenti aia, quindi la provincia di Cremona, e al controllo delle prescrizioni vi contenute ARPA, provincia e comuni, inerenti all'esercizio dell'acciaieria ARVedi, hanno da subito agito con puntualità e regolare frequenza al fine di garantire il corretto esercizio delle attività e ovviamente la minimizzazione delle molestie anche su sollecitazione dei cittadini residenti. Quindi per quanto attiene il clima acustico si ritiene utile menzionare i più recenti significativi provvedimenti rilasciati e non rilasciati a dimostrazione dell'attenzione che gli enti preposti hanno posto in essere per prevenire in sede autorizzativa e risolvere poi a seguito delle azioni di monitoraggio e controllo i problemi inerenti all'inquinamento acustico, limitando l'attività in essere o le proposte di ampliamento di ARVedi. Nello specifico vi richiamiamo e vi segnaliamo il decreto AIA 184 del 22-3-2010 della provincia di Cremona, successivo alla sopra richiamata verifica di via per l'ampliamento dell'acciaieria con l'aggiunta di una nuova linea con il quale fu prescritta a partire dall'entrata in servizio degli impianti autorizzati l'installazione nell'abitato di Spinadesco in punti concordati con ARPA appunto la stazione fissa di misura in continuo del rumore ambientale. Il decreto via numero 235 del 22 ottobre 2013 con cui la provincia ha vincolato il rilascio della successiva AIA e quindi la realizzazione delle modifiche richieste, che è di fatto l'aumento della potenzialità dell'impianto di inertizzazione dei rifiuti, al completamento di tutti i lavori relativi alle barriere acustiche che la società era già tenuta a realizzare e che erano state precedentemente autorizzate. In particolare, citiamo testualmente, dovranno essere realizzati tutti i terrapieni e le piantumazioni previste alla base delle barriere come da progetto approvato. Infine, il decreto di via numero 283 del 18 dicembre 2013 ed il successivo decreto AIA 1647 del 31 12 2013 con cui la provincia di Cremona ha negato, ha diniegato la realizzazione dell'incremento della capacità fusoria con contestuale archiviazione dell'istanza, anche in relazione proprio perché appunto alla mancata presentazione del piano di risanamento acustico e delle criticità degli impatti legati al rumore. In relazione agli aspetti attinenti ai controlli svolti, dettagliati appunto, che poi vi dirò relativamente al quesito numero 3, vanno menzionate le diffide del 2 ottobre 2012, del 6 novembre 2013, nell'ambito delle quali, sulla base delle relazioni di accertamento a cura di ARPA, Dipartimento di Cremona, la provincia ha ribadito la necessità di presentare il progetto di risanamento acustico del complesso entro il 31 12 2013. Il progetto è stato presentato il 24 12 2013 dall'azienda e attualmente è in fase di valutazione da parte delle autorità competenti, risulta a tal fine convocata per il 12 febbraio dopo un'apposita conferenza di servizi provinciale, quanto al quesito 3. Posto pertanto che la Regione non ha la potestà di intervento diretto sulle problematiche di disturbo acustico, si è provveduto a richiedere ufficialmente ai comuni interessati, Cremona, Spinadesco e Sesto ed Uniti, informazioni in merito agli eventuali provvedimenti che fossero già stati adottati in forza delle competenze dirette in tema di controllo appunto dell'inquinamento acustico, come definite dalla normativa di settore. Ciò al fine di avere un quadro aggiornato della situazione dedotta nell'interrogazione in aggiunta alle prescrizioni provinciali in materia di AIA. Dai riscontri pervenuti emerge che il Comune di Cremona in data 4 dicembre 2013 ha notificato all'acciaieria ulteriore ordinanza dirigenziale per la messa in atto dei provvedimenti relative ad emissioni d'origine ed acustiche derivanti dallo svolgimento dell'attività. Il Comune di Sesto ed Uniti non ha evidenziato sul proprio territorio, ove insiste la parte dell'impianto definita appunto area nord, problematiche acustiche riconducibili appunto in particolare e quasi esclusivamente all'area sud. Il Comune di Spinadesco ha concordato con la provincia e il Comune di Sesto le azioni intraprese ed ha in corso le valutazioni del progetto di risanamento acustico presentato da Arvedi. La provincia invece, con nota dell'8 gennaio 2014, ha richiesto ad ARPA, Dipartimento di Cremona, di valutare e esprimere il proprio avviso tecnico in merito al progetto di risanamento acustico presentato da Arvedi. In base alla risultanza della conferenza di servizi del prossimo 12 febbraio sarà possibile individuare le ulteriori misure necessarie da adottare che si aggiungono a quelle appunto che già sono state realizzate. Per quanto riguarda il quesito al punto 4, giova a precisare che i fenomeni di inquinamento acustico all'origine delle segnalazioni da parte della cittadinanza possono essere sostanzialmente riconoti a due tipi. I rumori continui, che sono ovviamente derivano dal funzionamento degli impianti fissi, e i rumori improvvisi dovuti invece alla movimentazione dei rottami ferrosi, delle scorie e dei prodotti. Quindi, non lo so, dicevamo ieri anche solo del ragno che movimenta ovviamente l'acciaio. Le sorgenti fisse hanno in genere un livello di emissione rumorosa relativamente costante nelle 24 ore e quindi hanno di fatto un impatto forse meno importante nella cittadinanza, o meglio, si sente di meno perché è appunto costante nelle 24 ore. I rumori improvvisi invece, generati in tempi e in modo pseudo-casuale all'interno del perimetro aziendale, sono di livello molto elevato, di breve durata e quindi di assolutamente di maggior disturbo alla popolazione. E poiché il numero di sorgenti attive all'interno del perimetro dei due siti aziendali è consistente, comeppure sono numerosissime le attività sporadiche e rumorose che vi si possono svolgere, il livello di rumore complessivo, dato dalla somma del contributo di ogni singola sorgente, può variare da un periodo all'altro anche di decine di decibel, così come può risultare ininfluente l'attivazione e la cessazione di uno di questi più sorgenti. Cioè, sono talmente tante e diverse che diventa, insomma, tutte insieme danno dei numeri veramente altissimi, ma è difficile intervenire sulla singola o è difficile che intervenendo sulla singola si possa modificare sostanzialmente l'impatto che ne esce, che sostanzialmente producono. La variabilità nelle localizzazioni delle sorgenti dei loro livelli di emissione, associata all'influenza delle condizioni meteorologiche orografiche, determina una corrispondente variabilità del disturbo che colpisce quindi a macchia di leopardo i due centri abitati, fermo restando naturalmente che alcune aree risultano disturbate con maggior frequenza rispetto ad altre. I rumori improvvisi sono ovviamente percepiti come più invasivi e disturbanti, soprattutto quando avvengono appunto nel periodo notturno e interferiscono con il riposo delle persone. L'attività di sorveglianza compete ad ARPA e si articola sostanzialmente così. Il monitoraggio si avvale della stazione fissa di rilevamento in continuo del rumore ambientale sita nel comune di Spinadesco e con campagne specifiche di media durata, 30-60 giorni. E i controlli si realizzano poi con accertamenti fonometrici presidiati all'interno delle abitazioni. Monitoraggio e controlli riguardano sostanzialmente il periodo notturno, vanno dalle 10 di sera alle 6 di mattina, periodo durante il quale i limiti da rispettare sono ovviamente per leggi inferiori e la percezione del disturbo è ovviamente parimenti maggiore. Si riportano poi, adesso vi dico quelle che sono state di fatto le attività già svolte in fase di monitoraggio e di controllo. Per quanto riguarda le campagne di monitoraggio, ne sussiste una e ne è stata realizzata, scusate una, negli anni 2009-2010 nel centro abitato del comune di Spinadesco, mediante un laboratorio mobile per il rilievo del rumore ambientale collocato in viade in comune appunto di Spinadesco è finalizzato a rilevare la diffusione del rumore nell'abitato del comune medesimo e permettere l'individuazione del sito più idoneo al posizionamento della stazione fissa. Dal 2000 ad oggi, e anche oggi è attivo, è invece partita la campagna di monitoraggio presso il cimitero di Spinadesco, mediante una centralina fissa. Dalla lettura dei dati di monitoraggio a regime si possono desumere i livelli di rumorosità all'interno delle abituazioni, attribuibili in particolare al fenomeno dei boati, soprattutto della movimentazione dei rottami di acciaio. Arpa chiarisce in proposito che i risultati della stazione di monitoraggio non sono utilizzabili ai fini sanzionatori, né hanno dignità di prova, essendo un monitoraggio automatico non presidiato, con conseguente menir meno della certezza del nesso causale di responsabilità tra il livello di rumore misurato e il soggetto produttore del rumore. In queste condizioni infatti è impossibile avere la certezza che i valori misurati provengano e siano causati solo ed esclusivamente dagli stabilimenti arvedi. 2013-2014 invece campagna di monitoraggio presso l'abitato di Cava Tigozzi e Spinadesco. A fine dicembre 2013 è stata avviata una campagna di rilievo nell'abitato di Cava Tigozzi e Spinadesco, campagna che prevede l'acquisizione per almeno 30-40 giorni dei dati di rumori in vari punti, 3 a Cava Tigozzi e 1 a Spinadesco. Scopo della campagna è approfondire le conoscenze della diffusione del rumore all'interno dell'abitato di Cava Tigozzi, che solo nell'ultimo anno ha iniziato a manifestare in maniera diffusa segnalazioni di disagi in ordine ai rumori. Per quanto riguarda i controlli sull'attività dell'azienda, sono ovviamente, come dicevamo anche prima, sono ordinari e quindi previsti nella normativa AIA e straordinari a seguito appunto di segnalazioni esposte dei cittadini. In particolare si sono svolti a maggio-giugno 2012, quando sono stati eseguiti diversi controlli fonometrici straordinari richiesti dal comune di Cremona presso le abitazioni di alcuni residenti di Cava Tigozzi. Gli accertamenti hanno dato evidenza che con riferimento a un'abitazione le emissioni rumorose provenienti dalle aree sud non rispettavano il limite differenziale di emissione richiamato nel provvedimento di AIA. ARPA ha pertanto inoltrato alla competente procura della Repubblica formale comunicazione di ipotesi di reato per violazione dell'articolo 29, 14,2, titolo 3 bis, decreto del testo unico sull'ambiente, esatto, mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità competente. La notizia di ipotesi di reato è stata trasmessa alla procura unitamente agli accertamenti derivanti dall'attività ordinaria di controllo e delle attività produttive AIA. Novembre e dicembre 2012 nella frazione di Cava Tigozzi di Cremona e Spinadesco è stato eseguito un controllo straordinario sulle emissioni delle aree sud che ha verificato la difformità rispetto alle prescrizioni contenute nella diffida della provincia del 2 ottobre 2012 emessa a seguito di un precedente controllo straordinario. L'esito degli accertamenti come nel caso di prima ha dato ovviamente avvio poi ha legittimato la comunicazione dell'ipotesi di reato avanti ovviamente depositata presso la procura della repubblica di Cremona. Agosto 2013 nella frazione di Cava Tigozzi del comune di Cremona è stato eseguito un ulteriore controllo straordinario delle emissioni rumorose provenienti dall'insediamento produttivo delle aree sud dell'Arvedi con accertamento del superamento del limite differenziale di emissione richiamato nel provvedimento di AIA presso un'abitazione e anche in questo caso è stata fatta segnalazione ovviamente di ipotesi di reato alla procura della repubblica. Direi quindi che insomma tutti gli enti dal comune alla provincia mi pare che si siano mossi insomma arrivando giustamente poi così come prevede la norma alla segnalazione appunto dell'ipotesi di reato alla procura della repubblica di Cremona. Quindi di fatto richiamati i limiti di utilizzabilità a fine probatorio e sanzionatorio dei risultati provenienti dalle campagne di monitoraggio come vi ho poco fa precisato e soprattutto dalle consistenti variabili orografiche meteorologiche unite alla difficoltà di individuare le effettive sorgenti disturbanti nel complesso panorama sonoro indagato si evince che i controlli eseguiti negli anni 2012 e 2013 hanno manifestato in due casi il superamento del limite di emissione differenziale e in un caso il mancato rispetto delle prescrizioni relative al contenimento del rumore fissate nell'ordinanza della provincia di Cremona regolarmente quindi segnalate all'autorità giudiziaria per tutte quelle che saranno le azioni che riterranno ovviamente di dover fare. Per quanto riguarda la richiesta avanzata regione Lombardia relativa all'intervento diretto direi che mi pare che l'attivazione di tutti gli enti coinvolti e competenti sia più che palese e accertata. Quello che può fare secondo me anche per evitare di entrare in un campo in una competenza che è assolutamente di altri è da parte di Regione Lombardia e lo faremo senza dubbio di trasmettere questa interrogazione e la conseguente risposta tutti gli enti interessati. Ribadisco con la precisazione che ovviamente è su richiesta di quelli che sono gli interroganti ma senza dubbio non per voler andare ad insegnare al Comune, alla provincia, a chi che sia come devono essere esercitate i loro poteri e le loro potestà che mi pare abbiano più che contempestività esercitato ma appunto per segnalare che anche Regione Lombardia è attenzionata rispetto ad una situazione che risulta essere particolarmente impattante e gravosa quindi per i cittadini di Cremona. Grazie Assessore. Prego Consigliere Nanni. Allora intanto ringrazio l'Assessore perché ritengo che sebbene non ci sia una competenza diretta Regione Lombardia svolge anche un ruolo importante di moral suasion e anche diciamo interviene anche un principio di sussidere età quando gli enti locali sebbene attivandosi non riescono evidentemente a raggiungere l'obiettivo perché effettivamente concordo con lei c'è stata un'attivazione ma di fatto che poi è quello che interessa ai cittadini dal 2008 a oggi siamo nel 2014 entriamo nel sesto anno e questo piano di risanamento acustico non c'è quindi lei può immaginarsi cosa vuol dire in quelle specificatamente nelle aree di Spinadesco e Cavatigozzi per chi abita in quelle zone subire per tanti anni questi rumori e boati che addirittura vengono descritti anche come ronzì di decolli di aerei quindi una zona attraversata da una tranquillanza del Po diventa una sorta di zona aeroportuale perché questa è l'intensità dei rumori quindi sono molto contenta di sentire da parte dell'assessore che ci sarà un attenzionamento di regione Lombardia anche affinché questo piano di risanamento arrivi al dunque cioè che arrivi con concretezza a questo al raggiungimento dell'obiettivo di evitare questi disagi fortissimi ai cittadini e sul punto rilevo che purtroppo appunto i monitoraggi così fatti non sono poi efficaci cioè quello che chiedevamo noi era anche se era possibile attivare un monitoraggio con finalità sanzionatorie perché c'è anche un altro dramma in questo cioè oltre il disagio che io cittadino subisco da anni il mio riposo notturno viene costantemente il mio e quello di tutta la mia famiglia costantemente disturbato c'è anche il fatto che chi provoca questi rumori che sono in parte accertate violazioni della legge perché la stessa ARPA dichiara che l'acciaieria si conferma una sorgente in grado di influenzare il livello di rumore ambientale presente nell'area della stazione fissa di rilevamento del rumore di Spinadesco e che i livelli delle emissioni della ditta diventano problematici soprattutto nel periodo notturno capisce assessore che va bene abbiamo i monitoraggi rilevano la violazione di legge però non sono efficaci da un punto di vista sanzionatorio che è quello che è accaduto con l'ultimo monitoraggio dove si è evidenziato il superamento dei 50 decibel però in assenza di un tecnico fonico non viene considerato un monitoraggio valido ai fini della sanzione quindi a un certo punto bisogna riflettere innanzitutto su questa richiesta di ulteriore espansione della capacità produttiva a 3 milioni di tonnellate e magari qui si può intervenire regione lombardia stavolta di fare una verifica attenta da parte degli uffici per la soggettabilità alla via perché se in questi anni i problemi si sono creati forse c'è anche diciamo una valutazione che è stata presa in maniera un po' superficiale e il secondo punto è appunto di agire anche con arpa finché questi controlli siano effettuati con finalità sanzionatorie perché altrimenti rimangono lì sappiamo che hanno violato la legge però questa acciaieria va avanti a produrre in barba alla legge e ovviamente le ricadute sono sempre a carico della popolazione quindi da questo punto di vista i cittadini so che si aspettano da questa nuova giunta e dalla sua persona in qualità di assessore ambientale estremamente sensibile a queste problematiche anche un attenzionamento particolare per risolvere una volta per tutte dopo sei anni questo grave problema. Grazie. Consigliere la ringrazio per le parole che mi ha riservato che ovviamente grazie che non merito assolutamente ma le dico che per esperienza diretta e personale sono questo tipo di problema veramente complicato cioè pensare di far ma è anche abbastanza immaginabile cioè facilmente immaginabile pensare di far convivere senza problemi un'attività produttiva come un'acciaieria con due centri abitati tra l'altro così vicini è veramente complesso ci sono possibilità di risoluzione perché effettivamente ci sono altre situazioni in cui si è in cui si è intervenuto senza dubbio un piano di risanamento acustico serio dovrebbe appunto non eliminare perché eliminare è impossibile ma senza dubbio contenere quelle che sono le emissioni rumorose. Ora oltre al fatto di segnalare come le dicevo prima agli enti locali a tutti gli enti che a diverso titolo sono interessati appunto dalla situazione dell'Arvedi l'attenzione e la vostra interrogazione con la conseguente risposta direi che a questo punto possiamo anche lo dico direttamente ai miei uffici anche chiedere dopo il 12 febbraio visto che non siamo parte del procedimento e quindi nulla potremmo sapere di sta cosa di farci sapere com'è andata poi la conferenza dei servizi così anche da aggiornarvi e per far capire insomma che vogliamo esserci non solo con la trasmissione da norma. Per quanto riguarda invece la questione dei monitoraggi quindi degli effetti sanzionatori dei possibili o no effetti sanzionatori dei monitoraggi lascio la parola alla dottoressa Colombo che è la responsabile dirigente relativo che può fornire maggiori informazioni tecniche così. Sì buongiorno a tutti da un confronto con con Arpa Cremona abbiamo un attimo cercato di capire qual è stato l'attività svolta in questi in questi anni sia a livello di monitoraggi sia a livello di controlli. Secondo me è importante proprio puntare l'attenzione su due tipi di attività monitoraggio e controllo. Allora quello che poi porta alla definizione di una segnalazione nei confronti di un'attività disturbante come avvio di un procedimento amministrativo quindi sanzionatorio piuttosto che un'ipotesi di reato contestata alla Procura della Repubblica è più nella fase del controllo vero e proprio. Il monitoraggio così come è stato impostato per questa specifica criticità è un monitoraggio tipo qualitativo ovvero in presenza di un'attività così complessa e articolata il tecnico ha la necessità di acquisire e di dettagliare in maniera più scrupolosa possibile quali sono gli eventi di maggior disturbo cioè quali sono quegli eventi che devono essere controllati quindi il monitoraggio in continuo seppur non presidiato da un'informazione di tipo qualitativo molto importante al tecnico per l'azione successiva che è quella del controllo vero e proprio. Il controllo vero e proprio che si esercita con la verifica del limite di emissioni differenziali in ambiente abitativo è quello che è maggior tutela dei cittadini perché viene proprio tutelata il legislatore ha fissato anche delle soglie di tolleranza diciamo in ambiente abitativo e rumore. Queste soglie che naturalmente sono più basse in periodo di riferimento notturno cioè dalle 22 alle 6 di mattina che sono quelle che i colleghi dell'ARPA, i tecnici dell'ARPA hanno controllato. Quindi l'azione di controllo quella più incisiva è quella proprio della verifica del limite differenziale. Giustamente diceva in tutti questi anni sembra quasi che l'attività di monitoraggio e controllo sia un po' avvenuta meno perché poi ARPA stessa dice io le misure che acquisisco periodicamente in continuo della centralina non hanno un potere sanzionatorio. Ha perfettamente ragione ma tutto quello screening è importante per fare l'altro tipo di attività che comunque è stata numerosa negli anni perché confrontandoci con i colleghi appunto con i tecnici scusi dell'ARPA proprio anche settimana scorsa all'interno di un tavolo di lavoro, loro sono costantemente presenti sul territorio. Quello che si va a verificare, seppur qua sembrano due volte che hanno controllato il differenziale, in realtà in queste due occasioni sono riusciti ad avere, a misurare il superamento del differenziale, ma altri accertamenti sono stati fatti, di cui non sono state date evidenze, è la verifica proprio di questo limite imposto dalla normativa nazionale che permette di far partire un procedimento. La verifica di quelli che sono i limiti di zona, del piano di zona acustica dei comuni interessati portano a una grande difficoltà proprio tecnica perché il limite di missione assoluto comporta l'acquisizione del limite proveniente da tutte le sorgenti presenti, perciò non soltanto quelle d'accelierie, quelle dell'olificio, quelle della strada di percorrenza. Il problema è che questo limite viene spalmato su tutto il tempo di riferimento, quindi viene un po' a essere appiattito, se mi consentite il termine, nel momento in cui la potenza sonora emessa dalla sorgente stessa è minore, cioè nelle nottate in cui magari i boati non sono così frequenti, il livello naturalmente si abbassa, è un valore logaritmico, ma diciamo che potrebbe essere equiparato a una media, quindi sul lungo termine, cioè sulle otto ore del periodo di riferimento notturno, capisce bene che anche una sorgente rumorosa spalmata su un tempo così lungo magari viene da sé che non riesce a superare i limiti, cioè che il tecnico non riesce ad accertare il superamento dei limiti, quindi il tecnico cerca sempre di agire sulla tutela del comfort in ambiente abitativo, quindi andando a verificare l'altro limite definito dalla norma, cioè il limite differenziale. Io non vorrei sminuire quello che è l'attività e comunque quella centralina che immisura in continuo i rumori provenienti, perché comunque è un grande contributo anche per capire la frequenza di questi boati, per cui la provincia aveva anche messo una diffida, la frequenza, la periodicità, quindi è comunque un'informazione preziosa al tecnico che poi lavora sul campo, quindi di fatti non dà origine a una segnalazione formale, come abbiamo già detto, ripetuto più volte, ma è veramente un grosso contributo per poi agire in quello che è l'unico limite per quanto riguarda il rumore che tutela veramente il cittadino e che può dar seguito poi a quello che è stato di fatti fatto, segnalazioni eccetera eccetera. Grazie, se il Presidente mi consente solo un secondo. Intanto la ringrazio per la spiegazione, ma infatti io non intendevo assolutamente dire che sono inutili, intendevo dire che questi controlli così come sono, non sono evidentemente sufficienti, quindi bisogna, questi monitoraggi, quindi bisogna necessariamente far sì che i controlli che poi vanno ad operare sugli effetti sanzionatori vengano attivati, perché altrimenti accade che passano sei anni e chi produce questo grave danno e disagio alla popolazione non viene neanche sanzionato, quindi anche come effetto diciamo di ulteriore dissuasione dal continuare. Comunque ringrazio veramente per anche la precisione su come avvengono, che ci auguriamo appunto che sia attivata anche di più il controllo effettivo vero e proprio. Grazie.